Un'utopia è qualcosa che non riesci a realizzare e che vorresti. Invece questa è un'utopia concreta perché si può realizzare. Non è fantasia. Tutto ritorna ad essere un paradiso. Ora è arrivato qui ad Avalon, il popolo degli Elfi. Solo che non so dove devo andare. Buongiorno, scusate la domanda, sto cercando il popolo degli Elfi, Avalon. Devi andare più avanti. Allora, mi è stato detto che la strada è questa. Se la camminare 5-10 minuti e poi si aprirà dinanzi a noi in il magico mondo degli Elfi. Cosa tu ha? Lui è Mario Cecchi, uno dei fondatori di questo storico progetto. In un mondo in cui solitudine e rassegnazione sono ai massimi termini, ci sono supereroine, supereroini, cioè delle persone, delle realtà, che cambiano l'oggi e quindi il domani. A Bernardolandia. Cioè questo canale si parla di questo nuovo mondo fatto di ecologia, solidarietà e bellezza. Viva, viva! Qui vedo anche dei limoni. Limoni, aranci, affogato, banane. Ah, ce l'avete proprio tutto. E quindi questa qui, Mario, come si chiama il posto? Avalon. Avalon. Che è il primo posto? No, è l'ultimo. Ah, è l'ultimo, ok. È il 1995. Questo del 1995, perché quando è iniziato tutto l'insediamento? Degli Elfi, in montagna del 79. E quindi al momento quanto vivete qui ad Avalon? Siamo in una quindicina. Quindicina, ok. Siamo in provincia di Pistoria. Secondo te quante persone ci vivono, se tu dovessi considerare tutte le persone che vivono all'interno del territorio degli Elfi? Quante saranno, secondo te? 150 in questo momento qua, più o meno. Dislocati in un territorio di 100 chilometri, forse meno? No, là sono tutti in montagna e sono tutti vicini l'uno agli altri. Sono circa 30 casolari, di cui 4 sono villaggi. Alcuni sono distanti 5-10 minuti uno dall'altro, altri al massimo un'ora, un'ora e mezza. Questo è composto martedì. Sei mesi si caga da una parte, sei mesi da quell'altra. Quelli sei mesi vengono compostati e li vengono utilizzati per il fruttetto, per concimare il fruttetto. Tra l'altro si composta e si viene da quest'altra parte. Questo è tutto materiale di recupero. Anche questo avete il bidet, è assurda questa cosa del bidet, guarda, non l'avremo mai vista. Perché è nato il popolo degli Elfi? Per vivere in natura in una maniera più autosufficiente possibile, coltivandosi le cose da sé. Un ambiente di montagna dove la natura ti difende, ti senti protetto. Erano alberi secolari di castagna che abbiamo incontrato quando siamo arrivati lì. Casali abbandonati dal dopoguerra. Con un po' di volontà si siamo rimessi a ricostruire e adesso ci sono tutti i casali abbastanza comportevoli. Dove c'era un cumulo di pietra adesso ci sono delle case. La montagna è stata abbandonata, adesso è ripropovata. Sono nati 200 bambini. Nel giro di 40 anni tutta quella zona è vissuta. E qual è per te la più grande soddisfazione di tutti questi anni? Una cosa che ti porti sul cuore? Sono nati tanti bambini e i nostri figli portano avanti il nostro messaggio. Anche altre cose dove vanno in giro per il mondo. Questa è la stanza delle galline, i mangini della struttura, la cosa differenziata. Quella è la banderia, quello è il forno, quello è il laboratorio. L'erboristeria, la stanza dei segni. Scusa, l'erboristeria. La mia storia è che da bambino vivevo in campagna dai miei nonni. Mi sentivo libero e felice. Poi quando andavo in città ero chiuso per quattro mura, a scuola. Mi sentivo presso. Non riuscivo a esprimermi. Mi venivano malattie psicosomatiche di ogni genere. E quando andavo in campagna stavo di nuovo bene. Da lì ho capito che la mia storia era la natura. Vivere semplicemente, come diceva mio nonno. Mi ha permesso. Vieni, vieni. Wow. Già da quant'è che sei qui, Ricky? Io ho 11 anni. All'inizio, specialmente nei primi anni, era proprio un miracolo ogni volta. Sembrava proprio un sogno. E' immersa nella natura, sotto gli ulivi, tutto materiale completamente naturale. Non c'è proprio un brisciolo di chimico dentro. Quindi si sente pure a livello fisico proprio che è un posto sano. Qui ho costruito senza elettricità. L'acqua la prendevo giù con i secchi. Quindi c'è un lavorone proprio di certosina è stato. Quindi immagino che lei ci sia a letto. Lì c'è a letto, sì. Ok. Lì sotto c'è tipo un ripostiglio. Ok. Questa è la parte elettronica, vedo. Qua c'è tutto il mio studio perché faccio produzioni musicale. Ah, vedi? Ah, vedi? L'abbiamo sgamato. L'elvo produzione musicale l'abbiamo sgamato. Non si apre. Non nascondeva perché non voleva mostrare. No, perché se riempie le polvere, allora lo copro tutti i giorni, ma qui produco musica. Però è bellissima questa cosa. Aspetta, è tua, è qui. E' qualcosa di meraviglioso. Eh, ma però è interessante il tema anche l'Ede, no? Come la natura, comunque nella mente di materiale si può anche mixare con la parte più tecnologica. Perché no, io non so contro la tecnologia. La tecnologia usata nella maniera giusta va bene. Dipende da quello che ci fa uno con la tecnologia. Ma la tecnologia è uno strumento. Quindi come tutti gli strumenti possono essere utilizzati per cose bellissime e per altre cose che sono poco utili. Io sono molto un amante della musica, quindi uso la tecnologia per fare musica. E invece questa qui immagino che sia la stufa, sia per cucinare, sia per cucinare che per riscaldare, immagino. Diciamo più per riscaldare che per cucinare. Perché più o meno faccio colazione qua, ma difficilmente mi cucino da solo. Noi mangiamo sempre insieme. No, colazione no, però pranzo e cena sempre insieme. E invece queste bottiglie qui che significato ci hanno? No, ma questi sono dei vetri che faceva, mio fratello faceva vetrofusione, quindi mi ha regalato dei vetri. E queste sono bottiglie riciclate in giro che fanno un effetto luce che entra dentro casa. Ce ne sono altre, vedi, tipo questa qui. Ah, la più particolare. Queste qui particolari che mi ha dato mio fratello. Quindi sono anche dei piccoli, cioè qui sta casa è tutta piena di oggetti. E ogni oggetto c'ha un suo ricordo e un suo perché. Quindi è un ammasso di ricordi e cose che stanno lì perché c'hanno un perché. Saranno 30 metri quadri, 6x4, 25, 25 metri quadri è più il suo palco, è piccolissimo. Tutto materiali naturali? Solo materiale naturale, ho speso 200 euro. Speso 200 euro, ho comprato questo pezzettino di tavole qui, poi sopra c'è il telo del tetto che l'ho comprato usato e il resto basta. Ed è fatto tutto da solo in autocostruzione o comunque con ambito? Da solo, molto da solo. In autocostruzione sì, io ho studiato bioarchitettura, quindi ho insegnato costruzione in terra cruda per tanti anni e quindi era una storia mia. Cioè non c'è senza bollette alla fine? Sì, praticamente sì, ma nel senso paghiamo la bolletta di casa quindi pago quello che c'è. Però se no ecco non è che c'è gas o agganci d'acqua, c'è solo appunto l'elettricità perché è incondiviso. C'è solo legna sì. È legna. È molto mitizzata come cosa questa degli elfi. Io vivo in una determinata maniera che sento sia molto comoda e sto rilassato. Però mi rendo conto che alcune cose io ci ho fatto l'abitudine, quindi per altre persone che vengono da fuori rimangono un po' spiazzate. Quindi magari già l'andano in bagno nel compost toilet, ma prima non c'era neanche il compost toilet, usavamo la zappa e bottiglia. Era già un tema che spiazzava tanti. Tanti credo che hanno questa sensazione o paura. Uno, che la comunità sia troppo difficile da vivere, mentre io penso assolutamente al contrario. Che è più facile vivere in comunità che da solo in un appartamento in città. Questo sicuramente è quindi questo coraggio di fare il passo perché molti hanno paura di lasciare lavoro, perché pensano che devono lasciare lavoro. In realtà c'è la gente qui che lavora, fa un lavoro normalissimo. Quindi sono più i preconcetti legati al fatto che andare a vivere in comunità significa per forza un cambio totalmente radicale della propria vita. Ma ce ne sono tante deforme comunitarie, tanta gente che fa una vita molto normale, ma molto più di qualità sia a livello sociale, di relazioni, di scambi, di buon cibo, di educazione condivisa. Ce ne sono liste e liste lunghissime di punti di forza. Chiaramente ci sono anche difficoltà nel vivo in comunità, quindi non è tutto rose e fiori, però vale la pena sicuramente. A proposito di Ecovillaggi, Nuovo Mondo e Alternative di Vita. Se sei alla ricerca di nuove possibilità di vita, se ti piacerebbe creare nuove connessioni, se vorresti avere maggiori strumenti a scoprire differenti modi di vivere, di comunicare, di risparmiare, vieni al Viva Viva Fest, la festa del nuovo mondo. Lo immaginate organizzata al centro Pantarei, Ecovillaggi in cui ho vissuto circa due anni. Sarà dal 13 al 16 luglio, ci saranno oltre 200 persone da tutta Italia, oltre 20 esperienze formative con 25 pionieri del cambiamento, tanta convivialità, musica, buon cibo, amicizie e relax per grandi e piccini. Prendi parte al cambiamento anche tu, il link per iscriversi è nella descrizione del video e nel primo commento fissato in alto. Viva Viva Seppo Fa! 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 Perché la vostra realtà al popolo di Elfi, perché ci sono così tanti pregiudizi, da cosa nascono questi pregiudizi secondo te? Perché era il territorio che i cacciatori facevano il loro comodo, hanno vissuto noi come che ossicolassimo l'attività della caccia. Poi, perché eravamo diversi, vestiti tutti sgargianti, colorati, i nostri bambini all'inizio a scuola erano discriminati perché mangiavano i ciapatti. A scuola non erano puliti come gli altri bimbi. Adesso è un privilegio essere figli degli altri, qua la vita si svolge in natura di missione di uomo. Non hai la bolletta da pagare se c'è il modo in montagna, se non c'è la luce elettrica. Sono altri ritmi, lavori quando ti senti, senti un padrone, hai bisogno di pochi soldi, sembra un altro mondo. Tanta limentizzazione dei massaggi. Il pavimento di legno è l'unico che abbiamo comprato. Per fare questo è il bilancio di 700 euro. Infatti uno dei temi, come tu, Magno, ti avranno chiesto mille volte, quando vado in giro a parlare dei covillaggi, la cosa è? Ma come campano? Come si sostengono economicamente? Che in parte subissiamo con la comunità, qua vendendo quel poco d'olio che avevamo in incidente. In parte non do lavorare fuori con lavori stagionali. In parte c'è chi si aggrega, fa la pizzeria e va in giro per i festival e porta un'imperata per la cassa comune. Esiste una cassa comune individuale, una cassa comune del villaggio. Ogni singolo villaggio è autonomo da questo punto di vista. Infatti la televisione non c'è. Purtroppo il telefomino è arrivato ovunque. I nostri figli ce l'hanno e ne fanno uso. Provano a pranzo e altri modi di sfogarsi. Un'attività prevalente che fanno è quella di spaccare la legna. Quello piace a tutti i ragazzi. Sarà la pranzo. Ma ve lo hanno anche della musica. Quindi suonate. Quali più per il sere. Tu suoni? Io no. Tu ascolti. Io sono l'unica sfogata. Sei mesi vedo del pane. Lo fate voi il pane? Sì. Tutti i giorni? Tutti i giorni nella stufa. Ogni tanto le pizze. Ma qui siete autosufficienti? No. Dobbiamo comprare tutti i cereali. Perché non produciamo. Legumi. Un po' di lenticchie e ceci. E poi il riso. Grano. Facciamo soltanto oliva e articoltura. Invece qui leggevo le regole. Non sono regole ma sono accordi. È una cosa molto differente. Nel senso che è stato concordato tra noi che quelli sono il buon vivere insieme. E diciamo che parte di quella roba lì è colpa mia. Perché diciamo che da qualche anno che sto cercando in qualche maniera di portare un po' di struttura in qualcosa che era molto spontaneistico. E quindi c'è questo, diciamo, questo equilibrio che cerchiamo ogni volta di trovare sull'essere strutturali, di essere un po' più organizzati e lasciare la bellezza anche dello spontaneismo. E quindi stiamo facendo cerchi di visione. Abbiamo scritto visione, missione. Abbiamo lavorato sulla parte economica, su come si entra all'interno della comunità. Mentre per tanti anni è stata assolutamente ultra spontaneista. Però anche, diciamo, è anche dovuto al cambiamento dei bisogni delle persone che vivono qui. Quindi pian piano questo spontaneismo era bello ma era tanto faticoso allo stesso tempo. Quindi pochi accordi ma buoni in maniera tale da non essere completamente sperzi o in balia del qualsiasi cosa può accadere. Non troppi perché poi una struttura troppo rigida di solito fa perdere proprio l'essenza della spontaneità e del vivere e di godersi anche questo stile che è, uno stile di vita libera. Apro la finestra e guardo il mio umore. Se la giornata è bella sono felice. Se è brutta e piove sono un po' più malinconico. Però c'è un osmosi e se tutto è piacevole e bello. Apro la finestra per far entrare l'aria pura. L'estate è sempre aperta. In camera mia c'è un individuo di rombini che viene tutti gli anni. In questa casa ce ne sono sette, otto anni. Ci sdolastrano intorno tutto il giorno. Si mangiano gli insetti, il tanzare in particolare. I pipistrelli anche sono i nostri amici. Però ce n'è uno solo. Autrico che ne arrivino degli altri. E ultima domanda è, il popolo di Elf è stato, perché magari mi vestivate un po' strano. Per tanti motivi un po' in qualche modo i strani, quelli estremi. Cosa rispondi, cosa hai risposto negli anni a questa domanda? La normalità non esiste. Siamo apposti più normali di tanti che vestono in cravata e camicia. Ognuno è libero di vestirsi come vuole e l'aspetto non fa il monaco. Però la discriminazione è facile. Prendersela con i zingari, con le persone diverse da noi. Ci fanno uno specchio per la nostra normalità che è solo apparenza. Invece adesso siamo più normali noi che viviamo in natura che la gente che vive in città con i condizionamenti tutti i giorni. Del telefonino per rispondere ogni minuto. Del fumo, le marmitte che respiri tutto il giorno. Quindi per me è una vita strana, non è lo stesso. Trovate il coraggio di essere felici. Io non giudico, non penso che il mio stile di vita sia migliore del vostro. Io rispetto tutte le scelte nella vita. Ma ricordatevi di essere felici. La cosa più importante è che mi sveglia la mattina. sono felice di quello che faccio, sono felice della mia vita, sono felice delle mie relazioni. Se siamo infelici c'è bisogno di cambiare. Se no, se siete felici, continuate, realizzate i vostri sogni, siate creativi, artisti, ciò che volete, ma basta che siamo felici. Grazie. Grazie.